Arriverà a 5 anni esatti dagli arresti eccellenti che fecero tornare l'Abruzzo alle Ulne nel 2008, la sentenza di Sanitopoli che vede come principale imputato l'ex presidente della regione Ottaviano Del Turco, accusato di associazione per delinquere, corruzione, abuso, concussione, falso. È prevista infatti per il prossimo 15 luglio, e comunque non oltre il 19 luglio, la sentenza, il processo sulle presunte tangenti nella sanità privata abruzzese, che assieme a Del Turco conta complessivamente 25 imputati. Lo ha annunciato oggi il presidente del Tribunale Collegiale di Pescara, Carmelo De Santis. In udienza, De Santis ha inoltre accolto la richiesta dei PM di modificare quattro capi di imputazione riguardanti i presunti tangenti consegnati dall'ex titolare della clinica Villapini, Vincenzo Angelini, all'ex governatore Del Turco, all'ex capogruppo del PD alla regione Camillo Cesarone e all'ex segretario generale dell'ufficio di presidenza della regione Lamberto IV. Nello specifico, l'accusa ha chiesto di spostare la data del 16 gennaio 2007 al 1 febbraio 2007. Inoltre, i PM, relativamente alla presunta d'azione del 7 agosto 2007, hanno chiesto di prendere in considerazione il periodo immediatamente successivo. Anche la consegna di denaro avvenuta a Chietiscalo il 24 ottobre 2007 va collocata nel periodo immediatamente successivo. Infine, i PM hanno chiesto di cambiare la data del 27 novembre 2007 con quella del 6 dicembre 2007. Relativamente alla questione, la difesa ha rinunciato ai termini a difesa. Gli avvocati di Del Turco hanno poi concordato la data del 10 luglio per la ringa difensiva. La prossima udienza si terrà il prossimo 6 maggio. In quell'occasione è previsto il confronto tra il periodo della Procura e quello di Del Turco.